Perché hai deciso di partecipare a questo progetto, in che ruolo ha in questo progetto, in questo progetto? Allora, io rappresento qua l'associazione IBAN. L'associazione IBAN è l'associazione che rappresenta in Italia IBISY SENDO. E siamo partner di VT Venture nell'organizzazione e nel seguire questo evento. E quindi sono qua per vedere le start-up e come partner dell'innovazione IBAN. E come ho ascoltato su questo progetto? Ancora non li ho guardati tutti i progetti e quindi perché sono stato distratto da altre iniziative. Però ne ho guardati e ne ho già selezionati tre su dossier, sulla carta. Però devo verificare ancora il giro, non so dirti ancora quale mi piace di più. E come vedete questo aiutare i studenti di Syracuse? Il ruolo degli studenti, cosa pensano degli studenti americani della Syracuse in questo progetto? Cosa pensano che potrebbero fare? Ah ecco che potrebbero fare perché non sapevo che... Allora, secondo me potrebbe essere un ottimo accompagnamento delle start-up portando un'esperienza in un altro paese. E questo va sempre bene. ma soprattutto aiutando le aziende e le start-up a ragionare su alcuni concetti di gestione azionale che è la cosa più importante e più difficile.